Ti-ti-ti-a, 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 ora sì, guardami, vieni qui, qui vicino a me. Adesso è il momento giusto Adesso è il momento vero Adesso sì ti posso chiedere Di stare più vicino a me Tip tip da 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 Dentro di me tip tam Già lo so, tip tam So che tu tip tam Ami me, tip tam Dentro di me Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no